Salve, oggi vi volevo parlare di mascherine. Questa è la mascherina della Ragione Veneto che Zai ha mandato a tutte le persone. Io in qualche maniera l'ho adattata a me, con la cucitrice, ho fatto un punto qui sotto in maniera che sia indossabile facilmente, ho messo un paio di elastici e risulta così. Ok, allora a cosa serve la mascherina? La mascherina principalmente serve perché il fiato o gli spruzzi o gli starnuti non escano e non contaminano qualcuno, non tanto per proteggere la persona stessa del virus, perché non è così. Allora, io ho testato vari tipi di mascherine per vedere se funzionano. Ad esempio questa è una. Come si fa a testare una mascherina? Si indossa la mascherina, perciò anche se starnuto o qualcosa del genere non esce fuori niente. Questo è un altro tipo di mascherina, ad esempio, che abbiamo noi in negozio. Uno indossa la mascherina, questo tra l'altro anche tiene fresco. oppure anche se è starnuto non succede niente, perciò non c'è contaminazione. Prendiamo un'altra mascherina, non so, ad esempio io ne ho 5-6 tipi. Prendiamo questa. Indossiamo questa mascherina. Posso tossire, posso fare quello che voglio e non esce niente. Ne ho un altro paio, però andiamo a quella della Ragione Veneto. Questa è quella che è stata distribuita a milioni nella Ragione Veneto. E' true! Ok, come vedete, quella che vi hanno regalato, dal mio punto di vista, e non voglio fare polemica, non serve a niente. Ok, perciò quello che vi dicono per televisione, valutatelo voi se è vero o no. Fatevi voi la vostra opinione sulle cose. Se questa non ferma niente, ma perché la devo mettere? Magari una che ferma questa cosa qua potrebbe essere più utile. Ecco. Perciò fate la prova con quella che avete a casa voi. Mettete l'accendino davanti e soffiate o starnutite e fate qualcosa. Se ferma, ferma. Funziona. Se non ferma, buttatela via che non serve a niente. Questo è il mio punto di vista. Ciao e alla prossima!